ciao bambini benvenuti nel nostro mondo dei giocattoli si cosa abbiamo oggi racconta per i nostri cari amici abbiamo tutto in stile di pj max non è barbie non è peppa pig e vabbè era ovvio si vede che non c'è niente di rosa praticamente proprio c'è niente di rosa vabbè a parte gufetta che è più rossa però si vede più rossa va allora qui abbiamo una lavagnetta piccolina di pj max che bella però abbiamo il set per la scuola ci sono anche i pennarelli si abbiamo il puzzle addirittura tre mini puzzle da completare mini e quello zainetto fammelo provare ma bene dai metterlo tu una due benissimo ma sai che ci sto io dentro lo zainetto mi puoi far vedere quanto è grande guardate quanto è grande ci sono le tasche qua puoi mettere tutto quello che vuoi c'è un'altra tasca qui c'è con un adesivo di tre manine avete visto le tre manine di gufetta di ceco hai visto che c'è qua si potrebbero anche noi tre mani bellissimo questo c'entrerà dentro poi proviamo a mettere questo c'entra secondo me si proviamo a metterlo dentro lo mettiamo e lo mettiamo poi e lo diamo così ce lo portiamo a scuola passiamo finta di tornare bambine e lo portiamo a scuola si ok poi allora queste abbiamo guardato poi cosa c'è poi scuola di disegno con pennarelli profumati profumati si vediamo se c'è scritto ci sono un quadretto ma non dice quanti ce ne sono ce ne saranno 50 tre 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 personaggi sagomati tre stickers e pennarelli profumati 14 album da colorare ma saranno i più di 50 allora si sono tantissimi bello abbiamo la super mega lavagna è più grande di quella lui è magnetica abbiamo anche questi per fare le forme il pennarello guarda loro hanno fatto i simboli loro i simboli si loro 7 di gatto poi di ceco cos'è mi sembra poi che cos'altro abbiamo attenzione attenzione questo è pesantissimo bambine quello è il topo da tavolo dei supereroi davvero come si gioca l'apriamo l'apriamo si allora aspetta prima presentiamo tutto vediamo come si gioca qua c'è un cartellone c'è il timer elettronico quindi è una cosa a tempo ok poi c'è la freccettina da girare si abbiamo un tabellone di gioco uno spindle 6 personaggi 54 test ma bambini ma come si gioca ce lo spiegate bene lo sapete voi secondo me lo sanno poi no no il pattino pj max dai cinque anni in su però non dice dai cinque a quindi secondo me lo possiamo usare si e della smovei questo e di lunghezza no questa è la lunghezza delle volante ah ecco mi sembrava di centimetri cos'era un anno e dice che ci può stare cinquanta kg di bambino ma vediamo cinquanta kg insieme eh si insieme no insieme di più ok niente niente nemmeno fattino per noi bambini lo volete voi scriveteci qua sotto si chi scrive di più eh vediamo chi scrive di più commento che riceve più like vince poi che cos'altro abbiamo questo li abbiamo presentati ora passiamo alla parte dei giochi vediamo aiutami a capire guarda car no cat car la macchina di cat boy questa è la versione turbo blast racers vuol dire che va a turbo vuol dire che va velocissima si abbiamo anche chi è abbiamo zeko zeko dove è gatto boy non c'è eccolo è ubriaca è caduta è caduta secondo me ha un po' di sonno un'arretrato piccolina noi dovremmo fare una sfida quindi la zeko mobile la cat car e la oval glitter glider 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 va bene aiutateci va bene così basta che c'è una difetta questo che c'è lampada proiettore allora si accende la lucina si mette quelle che vuoi tu ci sono tutti i personaggi sei buoni che cattivi dei pj max siamo i super pijamini ma tu la sei la sigla no sai che non l'ho sentita ma ma te la devo far sentire poi abbiamo la macchina di cat boy che è prezioso esatto eh no di è la macchina di cat boy tu non hai visto le macchino tutti tre si però questa è la sua che si possono andare a lui esatto questa è invece di zeko vedi che la comanda lui però ci salgono anche gli altri perché abbiamo tre posti è la guffetta è rimasta sulla macchinina sai che l'ho lasciato no ma sai cosa l'ho lasciata a casa la macchina di guffetta eh beh lo facciamo vedere prossimamente esatto il prossimo episodio e cosa c'è cosa c'è il tavolo creativo guarda enorme è una scrivania praticamente vedi c'è la base del tavolo hai i personaggi hai gli stickers poi attacca e stacca quelli sono stickers normali e quelli sono stickers da colorare ah poi guardate quanto ce ne sono pennarelli c'è tantissima roba e questo invece di lisciani e più per mangiare vedi colazione bere cena e pranzo che belle ma con i disegni di loro mi piace si dobbiamo andare a farmerello si sono ricordata e ci vediamo alla prossima puntata ciao mammini ciao